Buongiorno a tutti, sono Ruggero Franco, il CEO di KFE Forklift, EP Forklift per l'Italia, importatori e distributori unici per l'Italia. E lui è Antonio Renna. Salve a tutti! Antonio, qui con noi in KFE già da qualche tempo, si occupa dello sviluppo della rete commerciale. Oggi vi presentiamo uno degli ultimi arrivati in casa EP, nella serie TVL, tre ruote e quattro ruote nella serie FWL, dai 15 ai 20 quintali di portata. Batteria a litio da 80 volt e carica batteria integrato con spira 220 volt. Come potete vedere, nonostante la compattezza del carrello, la prestazione operatore è molto comoda. E tutto questo è stato possibile perché EP costruisce il carrello elevatore intorno alle nuove tecnologie a litio, rendendo lo spazio operatore ancora più comodo di prima. Proseguiamo nel nostro viaggio delle novità EP, presentandovi il fratello più grande e a quattro ruote della serie PWL, che è la serie FWL. Quattro ruote con doppia trazione anteriore, sempre una batteria a litio da 80 volt con carica batteria integrato. Come dicevamo, su quattro ruote è un fattore molto importante avere una doppia trazione anteriore. E non tutti i carrelli elevatori, quattro ruote, hanno questa caratteristica. Questo ci consente anche di affrontare delle pendenze decisamente importanti rispetto a quelli che hanno operazione. Quindi, come avrete potuto capire, le novità in EP non si fermano mai. Contattateci per maggiori informazioni. Grazie. 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 Grazie.